Ciao a tutti da ParpaChef, il pluristellato a colori per 360 Italy Market, il portale delle eccellenze italiane. L'incontro di oggi che faremo sarà molto breve e vi presento un nuovo produttore, un produttore chiaramente di eccellenze italiane e di prodotti veramente molto molto particolari e molto di nicchia. Allora il produttore si chiama Oleum Sabine ed è un produttore di prodotti appunto oleari che riguardano le olive in tutto e per tutto che sta appunto nella zona della sabina. Lui produce, questo nostro produttore produce olio, produce dei patè, produce anche un prodotto molto molto particolare per il quale poi faremo una ricetta a parte, ci cucineremo qualcosa a parte. Il prodotto, ve lo dico subito, è un prodotto molto particolare che si chiama Burrolio, è un prodotto che fa solo lui ed è un prodotto che praticamente è una sostituzione, lo metto a favore di camera, è un prodotto che è una sostituzione del burro e quindi è veramente un prodotto molto molto buono, fatto con olio d'oliva e burro di cacao ed è un prodotto veramente buono, si può usare in sostituzione del burro, è un prodotto vegetariano, peraltro insieme al Burrolio c'è anche un altro prodotto che si chiama Veganie, che è un prodotto vegano ed è veramente eccezionale. Però oggi tralasceremo di parlare del Burrolio perché voglio presentare un po' la panoramica di questo produttore che oltre appunto a produrre dell'olio che è veramente molto buono, a produrre il Burrolio produce anche degli oli aromatizzati, produce anche dei patè, infatti oggi con il patè faremo una piccola cosettina di bruschetta e poi produce anche una cosa molto particolare che sono delle foglie di olivio essiccate con le quali si possono fare delle tisane, hanno delle proprietà molto importanti anche per l'organismo, per il nostro corpo, per la salute e per la purificazione del nostro corpo, è una cosa molto interessante, senza che ci dilunghiamo poi se volete conoscere le caratteristiche di queste foglie d'olivo essiccate per utilizzarle come tisane potete andare già direttamente nel nostro portale c'è la scheda che vi dice tutto. Procediamo un attimo con calma e ci facciamo una nostra bella bruschettina antipasto e oggi giusto a titolo di esempio utilizzeremo un bel patè di olime nere condite con l'arancia, quindi immaginate insomma che arco di prodotti che abbiamo che possono essere veramente molto buoni. Ci prendiamo la nostra bruschettina, ce la mettiamo qui sulla nostra griglia, ci prendiamo le nostre pinze, ecco gli diamo una scottata veloce veloce alla nostra bruschetta, intanto nel frattempo eccolo qua, ci apriamo il nostro patè, ah ma guarda che ci sono, buonissimo, veramente molto molto buono. Ok, la bruschetta è quasi fatta, ce la siamo rigirata, eccola qua, ce la mettiamo tutta qua all'interno del nostro piattino, ecco qui, qui possiamo spegnere. Allora, adesso ci guardiamo il nostro patè, eccolo qua, il nostro patè d'oliva, gli diamo una giratina, mettiamo un cucchiaino qua, ne utilizziamo un altro per fare, ecco qua, per fare il nostro bel patè, ecco qua, molto molto interessante. Allora, lo metto a favore di camera il patè, eccolo qua, guarda quanto è bello, il prodotto devo dire è veramente molto buono, è un prodotto eccezionale, è un prodotto di qualità, è un prodotto che rispecchia quelle che sono le caratteristiche che noi vogliamo all'interno del nostro portale e quindi me l'assaggio. Ho sempre una buona scusa per assaggiare i prodotti buoni e questo devo dire è veramente molto molto buono, è veramente un prodotto buono, in particolare è un patè d'oliva all'arancia che è veramente un prodotto eccezionale, ve lo dico, si sente proprio la fragranza, la freschezza, la naturalità di questo prodotto. I prodotti sono molti, già ve l'ho detto, quindi ne abbiamo ne abbiamo tanti, ecco qua, queste sono le foglie d'olivo che vi dicevo prima, poi abbiamo anche il fico secco che viene diciamo prodotto sempre da loro, quindi da piante che sono loro e qui anche delle olive nere condite e sono sempre prodotti del nostro produttore, quindi le materie prime provengono esattamente dal nostro produttore, oleum sabine. Per vedere tutte le caratteristiche e tutti i prodotti del nostro produttore potete andare benissimo sul nostro portale, guardare le caratteristiche dei nostri appunto dei prodotti che vi stiamo presentando e soprattutto acquistateli, questo senz'altro, quindi vi invito ad andare nel portale, acquistare i prodotti, assaggiarli ed eventualmente darci qualche feedback perché a noi interessa capire anche i nostri i nostri clienti cosa pensano dei nostri prodotti. A questo punto arrivati io vi saluto, ParpaChef, il puristellato a colori per 360italymarket.com, vi auguro un buon proseguimento, speriamo e vi aspettiamo sul nostro portale e ci vediamo presto, ciao!